Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Come vedete, anche oggi, il nuovo unboxing. E... sì, questa volta c'è di SHINee, come potete già vedere dalla copertina di questa bellissima cosa. Mi è arrivato il DVD del concerto di SHINee World in Seoul IV, o IV, come volete chiamarlo voi. Penso che sia uno dei concerti più belli della vita. L'aspettavo da tantissimo, mamma mia. Appena arrivato, ho urlato. Quindi, direi subito di sfogliarlo, perché... perché di sì. Insieme a questo bellissimo DVD, come potete vedere, mi è arrivato anche questo. Che non so cosa sia in realtà, ma penso che sia i tappettini quelli del mouse. Penso, adesso guardiamo subito. Se si stacca, perché se si appiccica o... Perfetto. Penso di sì. Sembrerebbe. Però qua si apre, quindi... Ah, ma... ah, ma che figo! Eeeh... eeeh... No, bellissimo! Con le firme, fantastico. Ma, eh, non ho capito, cioè non capisco se è un... 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 un tappetino per il mouse o cosa. Sarà... multiuso! Bene, mi piace molto questa cosa, grazie per questo bellissimo regalo. Ora direi di sfogliare questa cosa. Ah, che ansia! Bene, apriamolo. Oh, molto bene. Bellissimi. Dividi una, dividi in due. Che... adoro. Mamma mia. Non vedo l'ora di guardarlo. Non vedo l'ora di guardarlo. Cioè, proprio il demo di... un concerto. Mi sta venendo l'ansia. Oh, anch'io. Anch'io voglio. Voglio anch'io andare. Eeeh... le firme ovunque qua. Quanta... No, con i mega cappelloni giganti. Mamma. Che poi mi piace un sacco vestiti così, cioè... Non lo so. È strana la cosa. Ma qua firme ovunque, va bene. Oh, mamma mia. Mamma mia. Che belli tutti in bianco. Oddio. Oddio. Adoro questi outfit, cioè, ragazzi, no. Bellissimo. Mamma mia. Oh! Ah! Your number, assolutamente. Irriconoscibili proprio. Ma no. Mi completini, completini. Ma no, mi aiuto. Santa cielo. Ma no, ma che belle foto. Mamma mia, mamma mia. Cioè, il mio è tutto in blu. Va bene. Va bene. Oddio. No, madono. Cioè... Bellissimo. Queste sono le cabine telefoniche quelle inglesi. Ma che figo. Cos'è? Dynamite questa cosa. Questa cosa è Dynamite. Cioè, ok, ce l'ho stampata in faccia, va bene. Anzi, in testa, più che in faccia, ma non importa. Guarda. Ah, ma tipo puoi strappare le page? Perché c'è tipo... Le righe quelle che puoi strapparle. Ah, ma sono tipo posterini. Sì, ma più oltre se io vado strapparli. Cioè, anche no. Cioè, proprio no. Cioè, guardate. Cioè, io adoro. Non lo so. È bellissimo. Mamma mia. Cioè, sono una cosa allucinante. Mi manca il respiro. Oddio. Oh, mamma. Oddio, con queste cose qua. No. Che figata. Cioè, ma guardate quanto sono vicino al pubblico. Io non ho parole. Si avvicinano qua in Italia. Cioè, vengono uccisi praticamente dalle fan. No, aspetta. Devo uccinare queste cose. Mamma, con questo... Aspetta, è un po' impre... Oh. Che bellissimi completini. Wow. Fantastico. Cos'è questa meraviglia? E qua hanno messo solo la sua firma. Va bene. Giusto. No, ma questa è una foto... Cioè... È una cosa stupida. Questa sì, me la staccherei. La attaccherei ovunque. Bellissima. E la... Cioè... Questo è... È il momento John Young, praticamente. Wow. Cioè, ma io adoro questo outfit. Non so perché. È bellissima. Perché loro sta bene con stessi cosa, ma... Ma i dettagli. Aspetta, perché non riesco a girare. No, il bello è che sono pagine... Non le solite paginette di carta velina, praticamente. Sono proprio cartone. Cioè, cartoline sono. Perché puoi strapparle. Mi piace sta cosa. Aspetta. Cos'è questa foto? Oh mio Dio. Genche. Mamma mia. Mamma mia. No. Cioè, non potete capire come sta adesso. Io basta. Adesso strappo questa foto e me l'attacco sul muro. Oh no. È una cosa bellissima. Cioè, ok, rimani qua, guarda l'operone. Va bene. Ah, madonna. Ah, mi serve aria. Sto male. Mamma che bello. Che bellino. Non lo si può. Cioè. Cioè, scusatemi. La perfezione. Va bene. Andiamo avanti che... Mamma mia. Ma qua andiamo di malimpeggio, proprio. No. Non si può. Voglio piangere. Oddio. Sto male. Ehi. Ciao. Cioè. Wow. Tutto in bianco. Cioè, ma guardate le gambine. Non vorrei dire. Mamma mia, che belle foto. Ma perché ci sono sempre belle foto? Va bene. Andiamo avanti. Eeeh. Questo bellissimo primo piano. Mamma mia. Sì. Sì, sì. Ok. Bisogna andare avanti. Eccolo qua. Anche lui, ovviamente. Cioè. Non lo so, io adoro. L'ho già detto che adoro. Adoro tutto. Va bene. Oddio, oddio. Aspetta. Non riesco a girare. Ma quante foto sono? Oh, oh, oh. Eeeh. Aspetta che soffoca. No, no, no. Che cos'è questa cosa? No, ma scusate. Le vene. Eeeh. Va bene. No, questa cosa non me l'aspettavo proprio. Oddio. Gli scleri. Cioè, va bene. Rimaniamo qua a fissare per ore. Ok? Cioè, posso non andare avanti? Oh, madonna. Cioè, non posso mettere queste foto qua così, ma... Già il mio telefono è intasato da robe del genere. Ho il coraggio di girare? Ho il coraggio di girare? Primi piani. Madonna. No. Cioè, volete che pianga proprio? Oh. Cioè, ma guardate che cos'è. Che cos'è. Oh. Il bianco. La morte. La morte totale. Va bene, va bene. Mamma mia, gente. Cioè. Ma dove ve li trovate? Non si può. La cosa del genere non si trova da nessuna parte del mondo. Tranne che è lì. Vabbè, ok. Eccolo. Mancava solo lui. Va bene. Cioè, aspettate perché quella foto di Milo mi ha proprio straziata. Oh, mi ha sciupata. Devo riprendermi. Vabbè che adesso... Non è che mi riprenda molto contro i Mino, ma vabbè. Ok. Andiamo avanti. Cioè, ne faccio anche fatica a girare sti foto. Madonna. Mamma mia. Papà mia. Cioè, il dolore. Ma... Che stress è questo... Questo book proprio, cioè... No, non si può. Grazie. Ti ringrazio che hai scritto in maniera normale. Nel nostro modo di scrivere. Ti ringrazio tantissimo. Se no, non capisco veramente niente. A meno una cosa la capisco. Wow. Cioè, le gambe. Va bene? Non vorrei dire le gambe. Ah, dagli stecchini. Cioè, ok. Quanta bellezza. Mamma mia. Quel backstage praticamente. Wow. Cioè. Cioè. No, non si può. Maria. Sto per sentirmi male. Scusa, vuole dire. E la miseria. Ma che cosa è che è sta qua? No, ma che foto. Ma che foto. Cioè. Wow. Mamma mia. Queste sono cose che ammazzano. Cioè, proprio. Madonna. Oddio. Ma diciamo, quanto roba manca? Colpo del cuore. Sto male. Molto, molto male. Cioè, no. No. Non si può. Mi manca l'ossigeno nel cervello. Non ho più l'ossigeno. Dai multipli sospiri che sto facendo. Sì, va bene. Va bene. Va bene. Va bene tutto. Fai quello che vuoi. Ok. No, non giro. Oh mio Dio. Oddio. Aspettate, mi sono venuti sui bridi per la schiena. Oddio. Ma c'è. Scusatemi, eh. Ma questa è perfezione totale. Non si può. Non si può. Non si può. Non si può. Sì, va bene. Cioè, proprio. Ok. Tipo, volete ammazzarmi del tutto? Va bene. Maledetti. Maledetti. Maledetti proprio. Ecco, dai. Sì, mancavano le foto di gruppo. Che qui sono durante le prove praticamente, mi so. Sì, perché non mi ricordo di aver mai visto questi outfit durante il concerto. Vabbè. Wow. No. No. Sono finita le foto. Che senza che sono... La playlist del concerto. Non so più nessuna foto. No. È finita. È finita. È finita. Ecco. Questa è tutta la playlist. La setlist. Non so. Sottotitoli. Cioè, proprio. Manca. Manco se li pago. Coreano, giapponese, cinese. Semplificato. Cioè, perché lo capisco meglio. Va bene. Ok. Va bene. Mamma, che bella cosa. Oh mio Dio. Mio cuoricino sta fatta andare impazzata. L'impazzata. Non so più parlare. Va bene. Bene. Grazie mille per queste bellissime cose. Ok. Ragazzi. Vado a vedermi il DVD. Non ce lo faccio più ad aspettare. Non so quanto ho aspettato un mese. Probabilmente. Sono stati anche abbastanza veloci. Sinceramente. Pensavo che ci mettessero di più. Niente. Se vi è piaciuto questo video. Lasciate un bel like. Fatemelo sapere. Se avete anche voi questo DVD. Meraviglioso. O se volete comprarvelo. O se lo avete visto da qualche parte. O non lo so. Se seguite le Shining. Fatemelo sapere nei commenti. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.